Prima oretta dedicata ad una serie di notizie in rapida successione, cominciamo ad approfondire i temi. Buongiorno Maurizio, faccio i complimenti per il servizio televisivo splendido che avete fatto riguardo alla manifestazione di domenica delle Dragon Boat. Donne toccate nel proprio fisico dal male, ma coraggiose e toste, con tanta voglia di vivere e lo testimoniano con il loro entusiasmo. Grazie ancora da Stefano di Falconara, marito di una di queste Supergirl. Grazie e sarà anche un pochettino merito tuo, no? Se questa tua splendida donna ha questa energia da condividere. Inoltrerò i complimenti, credo, alla Laura che ha realizzato, Laura Meda che ha realizzato il servizio. La morte del giovane picchiato brutalmente in discoteca. Torniamo sul 28enne, il residente a Fano fa piombare nel baratro della retratezza culturale. Si pensa ancora di difendere il proprio onore con il sangue. Non bisogna dimenticare che quasi tutti gli uomini violenti per difendere chi considerano la propria donna lo fanno in primo luogo per salvaguardare il proprio onore e l'idea di supremazia rispetto ad altri potenziali rivali. Cinzia, come spesso accade, il tuo pensiero è lucidissimo e degno di, oltre che di essere pubblicato, anche degno di essere condiviso. Il tema è quello terribile di un 28enne che con 50 pugni toglie la vita, poi avrebbe tolto la vita condizionale ancora d'obbligo perché ci penserà il giudice a dare la condanna dopo un regolare e giusto processo. Insomma, come si fa per uno sguardo di troppo alla propria ragazza a prendere a pugni fino a portarla alla morte, un ragazzo poco più grande, un 36enne, tra l'altro un vigile del fuoco, colpito alla testa da una mitragliata di pugni. Io nel mio modesto pensiero ho sempre detto in questi 15 anni di trasmissioni che non sono una persona gelosa, ho la fortuna di non essere una persona gelosa, ma anche perché la gelosia è una forma secondo me di debolezza. Se tu sei sicuro di aver fatto tutto il possibile perché la persona che hai accanto pensi solo a te, guardi solo te, si interessi dal punto di vista sentimentale, chiaramente solo di te, ma in realtà questo poi non accade. Questa persona che hai accanto guarda altro, cerca altro, vuol dire che o non eravate giusti l'uno per l'altra o tu non hai fatto abbastanza, quindi è sempre in riferimento a noi, secondo me, che dovremmo valutare il rapporto di coppia e non dovrebbe esistere la gelosia, perlomeno questo è il mio punto di vista, chiaramente. Ecco intanto il quadro da Porto Sant'Empidio, quasi notte ragazzi, la perturbazione che avevamo annunciato sta arrivando, questo è San Severino Marche, ha colpito anche il cielo sopraiesi, sta già piovendo in alcuni tratti della regione Marche, non dovrebbe però esserci niente di trascendentale, cioè pioggia sì, ma senza esagerazioni. Buongiorno all'amica Liliana, buongiorno, domani inizia svicolando, una festa molto bella a Monte Cassiano, pioverà? Sfogliamo ora insieme le pagine interne dei giornali, eccola qua, pagina 2, Corriere Bando per il raddoppio della Orte Falconara, si farà e si farà con i fondi del PNRR, gara per l'aggiudicazione dell'otto tra Genga e Serra San Quirico. Sulla linea c'è la possibilità di altre risorse destinate in realtà all'Abruzzo, insomma questo secondo binario dovrebbe finalmente arrivare con riduzione dei tempi di percorrenza, pensate tra Roma e Ancona, fino a 30 minuti, incremento della capacità da 4 a 10 treni, quindi ci saranno anche più frequenze di treni, miglioramento del servizio, adeguamento prestazionale per consentire il transito anche di treni merci, quindi non solo per i passeggeri, anche per l'economia sarà importante questo raddoppio che eviterà, come ho spiegato tante volte, anche i disagi legati a eventuali problemi di maltempo e di nevicate, soprattutto d'inverno chiaramente. Tumore al cervello, mamma che ha latta operata da sveglia, prodigio della sanità di Torrette, la donna del maceratese sottoposta a un intervento di awake surgery, che è un parolone, awake vuol dire sveglio, surgery è intervento sanitario. All'ospedale di Torrette mi sono sentita madre e paziente, ora l'intelligenza artificiale rilancia il neurochirurgo che l'ha operata. Baristi e camerieri, cerchiamo da sei mesi, ma sono introvabili, questo è lo sfogo degli operatori della Baia di Porto Novo, La Capannina, Dao Eugenio, Spiaggia Bonetti, Altaunus, insomma, cerchiamo da sei mesi, sono introvabili. Da Porto Novo al Conero gli operatori faticano a reperire il personale, coperti ridotti per forza, non abbiamo spazio, non abbiamo turni che ci permettano questo, ma in una stagione dobbiamo fare il fatturato di un anno. L'orologio corre inesorabile, la bella stagione è arrivata e manca il personale. La coperta è sempre corta, da un lato c'è appunto chi dice ci manca il personale, dall'altro c'è chi dice sì ma i nostri ragazzi vengono sottopagati, si propone loro il pagamento in nero, addirittura in certi casi turni massacranti. Giunta, siamo ancora ad Ancona, gli ultimi ritocchi alle deleghe, poi il debutto alla presentazione prevista per domani, sarebbe giovedì, Silvetti punta sul ritorno delle consulte. Come aveva detto in una vis-à-vis, in una faccia a faccia che aveva avuto con Ida Simonella presso la sede di Confartigianato Imprese, Ancona, Pesaro, Urbino. Aveva in quella sede Silvetti intervistato, diciamo così, da Pierpaoli, Casagrande e Longhi, aveva parlato di queste consulte nelle quali i cittadini possano essere più coinvolti e più protagonisti. Attenzione, GeoBarens, su questo abbiamo detto poco, però in realtà, visto che non c'è più la primizia, la novità, Ancona è stata, però lo confermo, scelta nuovamente per un approdo. Ha segnato il porto di Ancona alla GeoBarens con 38 migranti. L'arrivo è previsto per domani, tra i disperati c'è anche un minorenne. Sono 38 i migranti in cerca di salvezza che arriveranno al porto di Ancona. Il prefetto ha convocato Silvetti, si prepara la banchina 22. Giovedì mattina l'arrivo previsto, 38 i migranti raccolti in acque internazionali. C'è anche un minore non accompagnato che verrà per legge assegnato al sindaco di Ancona. Funziona così. I minori non accompagnati che arrivino richiedendo asilo in Italia vengono assegnati d'ufficio al sindaco del territorio. I precedenti, lo ricordiamo, due imbarcazioni. Il 17 febbraio l'arrivo sempre della GeoBarens. Il 10 gennaio l'arrivo della Ocean Viking. Continuiamo a sfogliare i giornali. Vi porto ora all'edizione dopo quella per Ancona e provincia, quella per Ascoli e San Benedetto. Non siate gelosi e leggeremo tutto come sempre. Le prime notizie le abbiamo già sbirciate. Arriviamo allora alle borse lavoro. A segno da 800 euro al mese, mica male. Possono presentare la domanda i disoccupati da 18 a 65 anni. Arriva anche per il Piceno una nuova chance attraverso le borse lavoro appena attivate. Con specifico bando dalla regione Marche. Con i centri per l'impiego locali, quindi sul territorio Piceno, quelli di Ascoli e San Benedetto, sono dunque i centri per l'impiego in riferimento. Rispondo così subito a chi potrebbe chiedermi. Intanto ci saluta Stin Verlst, che dal Belgio è tornato nelle Marche. Un abbraccio forte a te e ai tanti amici che incontrerai in questi giorni. Passaci a trovare anche ad ETV. Maurizio Borgognoni, buongiorno. Carla Ferretti, buongiorno. Paolo Filippetti, buonasera Marche Show. Poi racconteremo. È venerdì tappa a Cingoli. Incidente, che incidente c'è stato a Civitano? Avevo un incidente in autostrada, cara Carla. Così rispondiamo anche a questo messaggio. Dicevo, per chi chiederà, mi immagino, ma come si fa ad ottenere questi 800 euro al mese? Il riferimento è i centri per l'impiego. 800 euro al mese, domanda per disoccupati tra i 18 e i 65 anni. Mi sembra, insomma, un aiuto importante. Questa l'avevamo già anticipata. Sembra una beffa, ma è così. Ma come manca l'acqua? Troppo fango per le piogge. Gli agricoltori restano senza acqua. Bernabéi, di Bonifica Marche, spiega. Siamo stati costretti a chiudere il riciclo del canale perché arriva acqua mista a fango. E non va bene per i terreni. Nonostante le piogge abbondanti, la zona est del Paese Alto ha patito una carrenza d'acqua per usi agricoli. Succede a Spinettoli. Sfoglia che ti sfoglia. Arriviamo a San Benedetto, Casa della Salute in zona Ragnola. La permuta con l'Azur si può fare. Terreno valutato 550 mila euro ai fronte dei 900 mila euro dell'area del distretto di Via Romagna. Quindi questa Casa della Salute si avvicina. Concerti e libri per l'estate. Siamo a San Benedetto. La Riviera investe in cultura. Varato un cartellone speciale dove spiccano musica e incontri con gli autori. Per quanto riguarda invece i centri estivi, con il bonus c'è l'aiuto alle famiglie. Siamo a Grotta Mare. È stato emesso il bando comunale rimborsi fino a cinque settimane. Il periodo estivo è un po' delicato per le famiglie perché il lavoro prosegue. Per i figli è un po' complicato capire che i genitori, mamma e papà continuano a lavorare. Non cambia nulla per loro se la scuola finisce. Ma perché non resti con me? E allora intervengono in soccorso i centri estivi. Certo, sono una spesa i centri estivi. Allora Grotta Mare, bando comunale, bonus centri estivi, rimborsi fino a cinque settimane di frequenza. La questione Berlusconi. Oggi l'ultimo saluto. Molte critiche ha ricevuto il fatto che ci saranno funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Sfilano i potenti da Orban a Draghi. Chi ci sarà, chi no. Per esempio non ci sarà il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. La Rosi Bindi ha criticato la scelta dei funerali di Stato. Attenzione, non c'è il lutto nazionale. Come invece qualche messaggio diceva. Come si fa perché è stato concesso il lutto nazionale? Neanche per Falcone e Borsellino. Sono due cose diverse. Funerali di Stato e lutto nazionale. Non c'è stato l'annuncio del lutto nazionale. Questo per essere precisi. Poi dopo uno può dire che neanche i funerali di Stato si dovevano concedere. C'è anche chi da un punto di vista cattolico ha storto il naso perché Berlusconi è sposato, separato, convivente. Questi sono anche temi che sono usciti sui social. Buongiorno Maurizio, sul tema ricerca del personale per la ristorazione sono d'accordo con chi dice che i ragazzi sono sfruttati. Ma a parte il mio pensiero ci sono ben due scuole, alberghieri, Senigalli e Loreto, da cui reperire ragazzi già diplomati o ancora in corso. Perché non li reperiscono dalle scuole? Devono poi pagarli come da contratto? Punto di domanda. Insomma qui c'è un punto di vista più favorevole ai ragazzi rispetto alla diatriba ristoranti giovani. Dove sta la verità? Solitamente la verità sta nel mezzo. Vado un attimo a Tolentino perché vi ha colpito un po' questa storia. Cosa succede a Tolentino amici amici? C'è la storia del villaggio, dei container che secondo il comune non serve più. Dovrebbe essere smantellato ma lì c'è della gente. Chi c'è là dentro? Secondo il comune di Tolentino gente che in alcuni casi neanche ha subito il terremoto. Gente che lavora, che potrebbe contribuire anche alle spese vive. Invece no, in quel caso tutto è pagato dal comune. Basta, paghino allora coloro che stanno usando queste casette le spese. La nostra delibera dello smantellamento è legittima. Ma sentiamo bene dove sta la verità. L'area container realizzata dopo il sisma del 2016 da smantellare, le persone che non vogliono andarsene e il comune che attinge da fondi propri per mantenerle nelle casette ma fa richiesta ai residenti di compartecipare alle spese per le utenze, le manutenzioni e la vigilanza. L'ultima puntata della controversa vicenda di Tolentino è nella richiesta di sospensiva presentata da due famiglie che vi risiedono alla luce del provvedimento varato dal municipio Cremisi ma il TAR si è pronunciato respingendo la domanda. La competenza sarà del Tribunale Ordinario. Dopo sei anni, innanzitutto, non possiamo più parlare di emergenza. E la seconda cosa più importante è che non tutti gli ospiti che sono dentro l'area sono terremotati. Tant'è vero che purtroppo abbiamo avuto l'emergenza la settimana scorsa con il nubifragio che abbiamo avuto con la famiglia che è stata sfollata, quindi l'abbiamo ospitata nella zona dei container perché ricordiamoci che una parte, quindi l'area 3, è destinata a protezione civile. L'area 2 e l'area 1 invece verranno smantellate. A quelle persone spetterebbero altre soluzioni abitative. Il comune di Tolentino aveva cercato un accordo forte della legittimità dei provvedimenti che aveva emesso per correggere le storture della gestione della precedente amministrazione, ricorda l'assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti che sta seguendo la pratica con il legale Luigi Pianesi. Un appartamento è tanto meglio rispetto a quella scatola di latta e di metallo. Tutto gratuito, non pagano niente, chiedono solo. Non è una bella situazione. È un assistenzialismo totale quello che stanno avendo queste persone. Non lo ritengo giusto, ripeto, lo vorrei sottolineare, ma questo non per mettere in mezzo alla strada veramente nessuno. Non è questo il fine e l'obiettivo che ci siamo prefissati. Però un minimo bisogna che le persone si rimboccano le maniche, anche perché lavorano tutti. E questo è quello che mi indigna di più. Indignazione, ma anche una questione di carattere erariale alla base della delibera varata dalla Giunta Sclavi. Da amministratore non posso continuare a prelevare fondi di riserva dalle casse del Comune per continuare a pagare quel che resta di quella zona. Questo è quanto sta succedendo a Tolentino. Intanto, buongiorno Maurizio, volevo augurare uno splendido anniversario di matrimonio a mia moglie Carla, vent'anni di matrimonio. Volevo ringraziarli per tutto l'amore e la pazienza che ha da oltre vent'anni. Andrea D'Aiesi, grazie caro Andrea e complimenti anche per questo bellissimo sentimento d'amore che ti lega alla tua dolce signora Carla. Io ho, tra l'altro, proprio sbirciato oggi più che altrove la webcam su Iesi, quello spiraglio di sole, di luce che si vede in un clima di cielo plumbeo. Credo che sia proprio il vostro amore. Dai, diciamo così. Buongiorno Maurizio, lavoro nella ristorazione. Confermo la carenza di personale sia in sala che in cucina. Purtroppo è anche vero di certe realtà dove il personale viene trattato un po' male. Chi cerca sempre è perché perde quelli che aveva. E qui mi farei una domanda. Buona giornata a tutti e grazie. Interessante questo il messaggio da parte di chi lavora nella ristorazione e commenta. Sottolineando anche che è possibile che se uno cerca personale, anche perché il personale gli scappa un pochettino via, è possibile pure questo, perché questi messaggi, ecco perché da Porto Novo al Conero è allarme personale. Cerchiamo baristi, camerieri da sei mesi sono introvabili e la stagione di fatto è alle porte. Voglio tornare un attimino ad alcune notizie raffiche dal sito del Corriere, giusto per dare una lettura di una notizia, perlomeno per ogni zona. Allora dalla provincia di Ancona purtroppo la storia di questo ragazzo di 15 anni, punto da un calabrone, è in condizioni gravi a Torrette per via di uno shock anafilattico. È arrivato l'elicottero del 118 per aiutarlo. Sguardi alla ragazza del buttafuori fanese. Questo titolo è stato criticato perché in realtà sarebbe un albanese, non chiamatelo marchigiano, non chiamatelo fanese. Allora il ragazzo ha 28 anni, è residente a Fano. Questo è quello che abbiamo detto noi. Se poi un giornale titola in questa maniera, noi con rispetto leggiamo il titolo del giornale perché questa è la segna stampa. Ma aggiungo, mi permetto, non è che il fatto che uno sia un italiano, oppure no, cambia rispetto alla gravità della vicenda. Assolutamente. Vigile del fuoco ucciso dopo essere stato colpito in testa da una mitragliata di pugni a scatenare la rabbia, sarebbe stato uno sguardo di troppo verso la fidanzata. Incidente sul lavoro, questo incredibile. Ha Recanati, operaio investito da un'auto, mentre si trovava dentro un tombino. È stato colpito ed è in gravi condizioni. È successo a Recanati. Nel Fermano, a Lido Trearchi, ancora una volta, purtroppo una vicenda di cronaca che viene proprio da lì, intralcia l'inseguimento dei carabinieri e simula un fulto, donna denunciata, a Lido Trearchi di fermo. Quindi Ascoli Piceno, prima c'è, poi non c'è, poi di nuovo c'è. Innocenzi, che è un grande personaggio della Quintana, potrà gareggiare. Finisce la querella. D'aspo urbano del questore sì, ma solo per le gare di Foligno. Quindi ad Ascoli potrà gareggiare. Nuvole temporalesche sembrano rimirare il vicolo di corso a sigillo PG. Saluti e buongiorno da Pierluigi, il solito Umbro da Corridonia. Guardate un po' che meraviglia, sembra un quadro, onestamente. Grazie davvero che oggi e domani pioverà, lo abbiamo più volte ricordato. Stiamo anche e soprattutto monitorando la situazione in autostrada a 14, dove, come potete notare, è segnalata pioggia, sia in zona Fermo, sia in zona Ancona, sia in zona Pesaro, al confine con la Romagna. Questo per cercare di darvi informazioni in tempo reale, come sempre. La Mille Miglia arriverà, scattano le modifiche alla viabilità di vieti di sosta e transito. Fino al tardo pomeriggio di oggi si parte da Pesaro. Il serpentone della Mille Miglia passerà anche per Macerata, Fermo, eccetera. Ancora notizie. Disturbavano i clienti dei locali. Foglio di via per tre persone. Controlli della polizia nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani in quel di Macerata. Vi porto ora a Civita Nova Marche. Intanto passo da qui. Abbiamo citato la carenza di personale, le accuse nei confronti di ristoranti e bar. Ecco, SS Personale, la proposta di Heli Factory, un bonus da 600 euro per i neoassunti. Così, alla firma, il CEO dell'azienda calzaturiera Croceri dice Stiamo cercando almeno tre operai specializzati per convincerli a lavorare con noi. Siamo pronti a dare loro una sorta di bonus assunzione da 600 euro alla firma. Abbiamo parlato in questi giorni di Max Allegri, di questa proposta che gli arriva dagli Emirati Arabi. 10 milioni di euro alla firma, più 20 o 30 milioni di euro l'anno per fare l'allenatore de pallo. La dico banale perché proprio davvero tutti questi soldi mi sembrano un'esagerazione. Ecco, Mutatis Mutandis, molto meno pingui le cifre. Chiaramente stesso però concetto per questa azienda. La Heli Factory promette 600 euro di bonus assunzione. Cioè se scegli di lavorare con noi ti diamo pure un incentivo di 600 euro. Perché non si trovano tre operai specializzati. Siamo a Macerata, se avete queste caratteristiche provate a chiedere. Lo spettacolo della fioritura. Niente auto per quattro domeniche. Castel Sant'Angelo è uno dei comuni di accesso. Navette disponibili per Castelluccio. Sta per tornare anche quest'anno lo spettacolo della fioritura. La fioritura delle lenticchie. Castelluccio è una sorta di chimera. Ma quando c'è e quando non c'è? Come si fa a vederla? Io non l'ho vista mai. A cavallo tra giugno e luglio. Sta per tornare anche quest'anno lo spettacolo della fioritura da Castelluccio di Norcia. Un evento che per più di un weekend riempie le strade e non solo. Non si sa quando arriverà. Niente auto per quattro domeniche. Questa è la decisione delle amministrazioni. Civitanova. PNRR per gli asili. Arrivano altri soldi. Corsa contro il tempo per gli appalti. Lo annuncia il sindaco Ciarapica. Rispetteremo le scadenze. Fondi aggiuntivi anche per il comparto Trieste. Non è questa la notizia degli aiuti per gli asili o comunque per il centro estivo. Era a Grottamare. Se non vado errando. A Grottamare abbiamo letto di questo bonus soldi fino a coprire cinque settimane di spese del centro estivo. A Grottamare. Poi recupererò. Il sindaco Ciarapica invece qui a Civitanova dice rispetteremo le scadenze. Quattro le strutture che saranno a disposizione delle famiglie in città. Cioè gli asili. Dallo Stato sono arrivati i contributi a integrazione di quelli già avuti all'inizio. Da Civitanova a Porto Recanati e Recanati. Cucina, biblioteca, tv e biliardino. Un intero piano per i dipendenti. Iguzzini si rifà il look. Il Sio Venturini spiega a 400 metri quadrati in stile olivettiano di condivisione. Ecco come si presentano i locali della Iguzzini. Anche con il biliardino. Pensate un po'. Avevamo parlato poco fa di fondi PNRR per Civitanova. È stato un tema tra i più dibattuti ieri. Anche dell'intervista che ci ha rilasciato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Perché dei soldi che arriveranno al capoluogo regionale. Si parlava a un certo punto tra 60 e 80 milioni. Lui dice neanche 60. Circa 56 non serviranno per il rilancio della città. A quanto? Piuttosto per le manutenzioni. Ma ha parlato anche di Berlusconi, della giunta, del cinghiale. Sentiamo. Berlusconi, la nuova giunta, i soldi del PNRR, il cinghiale. Il sindaco di Ancona, Silvetti, torna in diretta a Buongiorno e TV e affronta i temi caldi. Sui nomi, la percentuale non c'è la data. Cioè a quanto siamo più o meno? Mancano un paio di caselle, tre caselle, due caselle, una casella? Ormai a oltre il 90%. Oltre il 90%. Manca un nome alla cultura. Arianna Trifogli o Anna Maria Bertini? In questo caso c'è un derby tra due giornali. Un giornale dice un nome, un giornale dice un altro. C'è un giornale che ci azzecca, non le faccio riferimenti specifici. C'è un giornale che ci azzecca. C'è uno di due che ci azzecca. Sui soldi del PNRR, la stoccata alla giunta Mancinelli, che in campagna elettorale aveva parlato di circa 80 milioni che avrebbero rilanciato la città, accusando Silvetti di non essere pronto a gestirli. In realtà il sindaco si confessa deluso. Altre città hanno ottenuto molto di più. Il denaro servirà per le manutenzioni. Mi sono già confrontato con i vari dirigenti del settore che serviranno per mettere in sicurezza plessi, per rimettere a posto il mercato delle erbe, piuttosto che la piscina olimpionica e il poligono di tiro. speravamo in qualcosa di più oggettivamente. C'è una manutenzione che serve alla messa in sicurezza di scuole, di palestre. Che non è male, per carità. Che non va bene, però sì, ma più che bene, ma in realtà il PNRR era nato per altri tipi di possibilità, di una grande leva di sviluppo dal punto di vista infrastrutturale per le realtà locali. Basti pensare a Padova, che ha 450 milioni di euro per fare il nuovo asse tramviario. Cagliari ne ha giudicato un miliardo. Parliamo di cose rilevanti. Vabbè, quello che abbiamo sicuramente lo portiamo a casa, abbiamo necessità e lo faremo. Le chiedono anche del cinghiale. Dite al Senato di non abbattere il cinghiale. Verrà abbattuto, questo dicono i giornali di oggi. Chiaramente al corrente della vicenda, cosa ci può dire al riguardo? Che questa settimana si riaprere la cittadella. È un piano di gestione che chiaramente viene realizzato sul posto, chiaramente non tramite selezione, ma tramite intrappolamento, però credo che l'abbattimento ne sia solo la conseguenza. Ultimo passaggio su Berlusconi. Silvetti sarà mercoledì al funerale a Milano, poi un retroscena sul testamento del leader di Forza Italia, proprio per Ancona. Forza Italia in questo punto esprime il sindaco in un unico capoluogo di regione. E in questo caso... Che sarebbe lei, quindi una responsabilità che Berlusconi le faceva anche sentire. E lui su Ancona voleva prospettarmi dei progetti che aveva su relazioni internazionali da mettere a terra. Quindi su questo lui insomma avrebbe dato il proprio contributo per dare visibilità a una città che ha bisogno di avere non solo una percezione diversa, ma soprattutto una visibilità nuova. Questo è il servizio relativo alla presenza ieri nei nostri studi del sindaco del capoluogo regionale Daniele Silvetti. Si è parlato del funerale di Berlusconi e il tema di apertura anche dei siti nazionali. Anzi è cambiata. Si parla dello spettro di Meloni, un governo tecnico dopo il terremoto che travolgerà Forza Italia. Secondo Repubblica Forza Italia è destinata ad implodere. Ieri alcuni giornali nazionali parlavano di un debito di Forza Italia nei confronti della famiglia Berlusconi di quasi 100 milioni di euro perché che Berlusconi spendesse anche di tasca propria per la politica è cosa nota. Intanto il funerale in 10.000 per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, decisione che è stata anche assai criticata, sfilano i potenti da Orban a Draghi. Chi ci sarà e chi no. Non ci sarà, per esempio, l'abbiamo già anticipato, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ambretta, buongiorno. Un tempo incerto? Sì, è vero. Noi che facevamo l'apprendistato gratis. Ciao Maurizio. Sì, anch'io. L'ho fatto, l'ho raccontato tante volte. La famosa gavetta. Luciano, buongiorno. Piove leggermente a Recanati. Poco fa ne parlavamo della zona di Recanati con questa notizia della Iguzzini che si rifà il look. Piove leggermente a Recanati. Ieri l'elicottero giallo si è posato vicino a noi per quel 35enne che lavorava nel tombino ed è stato preso dall'auto. Grazie per questa tua testimonianza. Eccola qua, come spesso accade le notizie. Poi le viviamo attraverso il vostro feedback. incidente sul lavoro operaio investito da un'auto mentre si trovava dentro un tombino era appena riemerso quando si è verificato l'incidente. Ci sono anche notizie importanti e positive per chi ci segue e utilizza spesso e a volte non volentieri il treno. Se penso all'Orte Falconara, tanti tanti disagi in questi anni. Ecco, bando per il raddoppio della Orte Falconara si farà e si farà con i fondi del PINRR. cantierare il cantierabile, i soldi poi arriveranno. Questo è il punto di vista dell'assessore Baldelli. A proposito del personale, manca personale camerieri, baristi, eccetera, ma manca anche personale qualificato, operai specializzati. E allora l'idea di Elifactory, cercasi personale. Il calzatorificio propone ti diamo 600 euro se vieni a lavorare con noi. Oltre chiaramente allo stipendio per i neoassunti questo bonus da 600 euro. C'è anche un bonus disoccupati che abbiamo individuato in un giornale locale, ve lo recupererò tra poco. La storia è poi del cagnolino. Siamo a Pesaro, ucciso di crepacuore dalla paura di un cane grosso che lo aveva minacciato. Il loro cane uccide un volpino morto di paura. I padroni finiscono ai lavori socialmente utili. L'incontro con questo cagnone, un Amstaff, era stato fatale per il volpino, ma pensate a morire per un colpo al cuore. Il cagnolino era morto per la paura, il cuore aveva ceduto. La coppia padrona dell'Amstaff è finita sotto processo ed è stata condannata a lavori socialmente utili. Perché questa condanna? C'è anche chi chiede, giustamente da un punto di vista tecnico, il motivo. perché noi proprietari di cani, a me non piace il termine, noi che abbiamo la responsabilità affettiva degli amici a quattro zampe, abbiamo anche una responsabilità giuridica di quello che fanno i nostri cani. Se mordono qualcuno, la colpa è nostra. Se scappano da casa e causano un incidente o la macchina finisce in un burrone per evitare il nostro cane, siamo noi responsabili. Se li ritrova la guardia e li recupera i nostri cani e noi li andiamo a recuperare, dobbiamo pagare giustamente per il servizio, cosa che io ho fatto più volte per l'amico Ettore. Sfonda le vetrate della sala d'aspetto. Torniamo ai giornali. Questa da Fabriano è grossa perché immagini così colpiscono. Sfonda le vetrate della sala d'aspetto e piomba con l'auto sui binari. Panico alla stazione di Fabriano, due donne finiscono all'ospedale. Al volante una signora di 82 anni contro questa signora. Diversi messaggi, cosa guidi, e quell'età, cose del genere. Insomma, la signora ha avuto un malore. Io mi sono permesso anche già di dire che io conosco signore Aje ben più attente, ben più scrupolose alla guida di tanti giovani presunti più lucidi, più brillanti che però nel frattempo guidano guardando il cellulare, guidano cercando qualcosa al monitor, al touchscreen. Insomma, non è detto che l'età comporti direttamente una peggiore capacità di guida. Per fortuna, non è successo niente, aggiungo, per fortuna in quel momento non sopraggiungeva un treno, altrimenti saremmo stati qua a parlare di un dramma terrificante. Altre notizie, questa volta ci spostiamo verso il Pesarese, un anziano, sempre un anziano protagonista di questa storia, che era riuscito a scappare dall'ospizio, ma poi era morto di freddo. In due, finiscono a processo, sono i titolari dell'istituto dove l'anziano era ospitato, perché evidentemente questo signore non doveva poter scappare, era morto di freddo, forse inseguendo un nebbioso ricordo piuttosto animato da un preciso obiettivo. Antonio Brisigotti, all'epoca 93enne, era riuscito a scappare dall'istituto dove era ricoverato, eludendo i controlli e la sorveglianza. Per questo sono finiti a giudizio i titolari dell'istituto dove era ospitato, che sono stati messi appunto sotto giudizio. Mi devo fermare, ma vi ricordo, giusto giusto, il tempo pioverà oggi, pioverà domani, poi però per il weekend molto meglio, guardate che meraviglia zona San Benetto, pioggia che sta caratterizzando anche il tratto autostradale dell'A14. Mi segnalano un problema tra Pescara Sud e Ortona per un veicolo in avaria, non riguarda le marche, ma insomma per chi transita attraverso le marche questo è il disagio che troverete. Break, a tra poco, se avete piacere, state... Anche noi di WeDeva continuiamo a farci domande per darti sempre tutte le risposte con una banca digitale innovativa e un nuovo modello di consulenza finanziaria. Non sei curioso di saperne di più? Banca WeDeva, gruppo Montepaschi. Dagli anni 90 la famiglia Moroni lavora nel suo laboratorio secondo antiche tradizioni tramandate da tre generazioni. In via direttissima del Conero vendita al dettaglio di sughi pronti, porchetta, salsicce, salame al verdicchio e a rosso conero e tutta l'eccellenza della produzione Moroni. oltre a miele, con sede, marmellate, olio evo, vino del territorio e pasta artigianale. Marche Salumi è produzione, vendita diretta, catering e idee regalo. Marche Salumi per la tua azienda, per i tuoi eventi, per la tua famiglia. ottica Cristina Montenoni qualità, risparmio, professionalità. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche, lenti a contatto, strumentazione scientifica, visita computerizzata della vista, via Piemonte 2, Falconara Marittima. La vista è un bene prezioso, concediti un doppio benessere. Acquistando un occhiale da vista con lenti antiriflesso, per un nuovo occhiale da sole, le lenti, te le regaliamo noi. Benvenuti nella zona dedicata alle cucine e alla sala pranzo del nostro showroom. Oggi vi presentiamo una cucina Lube modello Luna con lanta in legno e top in grass. A completare la stanza abbiamo il tavolo Euro sedia allungabile fino a 3,30 metri che può ospitare fino a 14 persone. Vi aspettiamo nel nostro showroom di Via Piave 33A per disegnare e progettare al meglio i vostri ambienti. Workgate Italia da oltre 15 anni coordina l'attività di professionisti per offrire servizi specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per garantire il benessere produttivo. Privacy perché la tutela dei dati è sempre più a rischio. Formazione professionale se vuoi essere al passo con i tempi. Workgate Italia ti accompagna in sicurezza verso l'innovazione e la crescita. Workgate Italia per te. Il 16, 17 e 18 giugno torna a Colle Lauro in festa presso il Circolo Acli Colle Lauro Camerano. Stand gastronomici musica, balli e giochi per tutte le età tutte le serie balli di gruppo ballo liscio e animazione. Domenica 18 giugno ti aspettiamo a partire dalle 16 e 30 per il diciottesimo torneo della Morra a Coppia e concluderemo insieme la giornata con l'estrazione della lotteria. Colle Lauro in festa con il patrocinio del Comune di Camerano in collaborazione con la BCC di Filottrano e Camerano e Salute 2000. Ma com'è spacciata? Ce l'ho dal 97 ed ero un usato garantito. Non è niente per risuscitarla a qualche fluido. La macchina è da cambiare. Fai un salto da Figempa. Dammi retta, fai come me. Da qui ci arrivi a piedi. Non vivere i tuoi sogni come un incubo. Rivolgiti a Figempa. Di noi insieme care marchigiane e care italiane ben ritrovati e ben ritrovati. Stiamo seguendo, monitorando con voi e per voi la situazione traffico in A14 sta piovendo. Quindi fate attenzione. Commenti anche alla stampa. La Repubblica non è un quotidiano e la velina dei cattocomunisti. Grazie per l'opinione che rispetto ma chiaramente non condivido. Da collega bisogna da parte mia se non altro sempre rispettare assolutamente il lavoro dei colleghi. La Repubblica è il sito giornalistico online più cliccato d'Italia insieme con il Corriere della Sera. Ecco qua invece una segnalazione che ci arriva a zona baracola. Altra segnalazione devo dire di traffico super congestionato. Che cosa sta succedendo nella zona della baracola? Intanto sconsiglio in questo momento di utilizzare il tratto perché come potete vedere evito di mostrare anche le le targhe c'è un grande casino tutto bloccato 349 39 una torsione vi fateci sapere che cosa ne pensiate se abbiate tra l'altro feedback. Buongiorno Maurizio vorrevo intervenire sugli ospedali di Ancona attenzione sento parlare sempre che nelle strutture ospedaliere come torrette che manca il personale che non si trovano ti faccio presente che attualmente chi già ci lavora come infermiere osso non vengono rinnovati i contratti ne abbiamo parlato qualche giorno fa 150 150 rinnovi ma 300 persone a torrette da rassegna stampa di qualche giorno fa 300 persone sono ancora in attesa di essere rinnovate personale che fuori vorrebbero essere assunti non ci sono contratti e allora perché questo stato dicono che non si trova personale sono solo dei qua 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 i politici che dicono soltanto e poi ci sono degli epiteti c'ha ragione il presidente Conti che di chiacchiere ne dicono una marea tutti i giorni grazie per questo messaggio un po' particolare il succo però la sostanza l'abbiamo l'abbiamo capita ci segnalano anche questo appuntamento parla anche di cose belle viva lo sport allora football camp dell'Atalanta ad Ancona l'Atalanta che ha il bacino più d'esperienza nel settore giovanile italiano il settore giovanile per antonomasia diciamo delle marche ed Italia si troverà da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio proprio ad Ancona l'organizzazione affidata alla scuola calcio giovane Ancona si terrà questo football camp allo stadio della palla ovale Nelson Mandela in via della Montagnola per iscrizioni si può andare sul sito atalantacamp.it scuole calcio estive per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni al Nelson Mandela di Ancona quindi per chi avesse un cucciolo che ha voglia di provare ad essere insomma protagonista del calcio uno su mille ce la fa ma è proprio attraverso un football camp in quel caso fu mi pare a Castella Raimondo che venne scoperto il talento del marchigiano Jack Bonaventura che saluto se mi segue sempre con grande piacere lo ricordo eccolo là l'appuntamento da lunedì 3 luglio venerdì 7 luglio atalantacamp.it per le eventuali iscrizioni l'organizzazione della scuola calcio giovane Ancona torniamo ora ai giornali ai titoli di primo piano poi ancora le vostre segnalazioni la mille miglia che apre i giorni dei motori saranno giornate belle bellissime per il turismo anche marchigiano per il meteo mica tanto però per il turismo sì perché è pronta ad arrivare la mille miglia dovrebbe sbarcare già qualche macchina d'epoca si avrà avuto il piacere di incrociarla arriverà a Pesaro la carovana della mille miglia passerà per Macerata per Fermo per Ascoli oggi il passaggio della rievocazione storica e nel weekend toccherà alla cronoscalata San Marco San Giacomo interessante iniziativa sempre da Ascoli la brochure realizzata dai bambini per i turisti QR code e messaggi speciali a invitare i turisti ad Ascoli ci penseranno i piccini il caso Quintana la querelle Quintana Innocenzi ci sarà c'è il Daspo sì dopo la rissa che l'aveva visto protagonista a Foligno ma un Daspo c'è un divieto di partecipazione ad eventi pubblici e sportivi che riguarderà solo Foligno quindi ad Ascoli potrà partecipare Templaria torna nel segno delle donne ne abbiamo parlato anche ieri amici amici di Castignano è stato svelato il tema della 32esima edizione la forza femminile nel Medioevo il ruolo anche giocato dalle donne nel Medioevo appuntamento in quel di Castignano giriamo pagina anzi cambiamo zona e andiamo dall'edizione per Ascoli San Benedetto a quella per Ancona e Provincia in primo piano l'incidente alla stazione di Fabriano che vi ha rubato l'occhio va detto strage sfiorata alla stazione paura a Fabriano auto impazzita finisce sui binari dopo aver sfondato l'ingresso l'auto ha letteralmente sfondato la vetrata della sala d'aspetto per poi finire la corsa sui binari viaggiatori solo sfiorati io ho anche un video del momento in cui l'auto sfonda se ce la faccio ve lo proporrò la storia bella di questa mamma operata al tumore al cervello asportato mentre lei allattava il neonato è successo all'ospedale di Torrette e poi l'Anconetano in coma ne abbiamo parlato tante volte di questa storia di Andrea il cui papà tra l'altro per anni ci ha seguito sono vivo grazie a Berlusconi il suo audio mi ha risvegliato questo il racconto di Andrea che dopo un incidente in moto era finito in coma le cassette con la voce di Berlusconi che gli parlava l'avevano riportato alla vita finti vaccini in 77 a rischio processo questa storia ha colpito tanto anche perché ma ancora si parla di covid di vaccini se in quegli anni che non sono così distanti qualcuno ha violato la legge la legge poi ha i suoi tempi finti vaccini chiuse le indagini ora in 77 rischiano il processo ma c'è anche chi esce dall'inchiesta soldi in cambio di finte inoculazioni di vaccino per ottenere così il green pass senza il quale si poteva fare ben poco ricorderete solo per 8 c'è stata l'archiviazione in totale erano oltre 80 77 rischiano adesso il processo 349 39 18 169 eccola qua la storia della donna operata mentre allattava il neonato così abbiamo intanto asportato il tumore nuovo intervento straordinario da svegli all'ospedale di Torrette con l'equip del neurochirurgo Trignani davvero complimenti per questo intervento miracoloso come definirlo altrimenti ho pronto un servizio legato alla sanità sul tema demenza che è un profondo problema per tante famiglie quando i nostri nonni i nostri genitori al volgere del desio siano colpiti da questa degenerazione anche mnemonica anche fisica e allora dalla diagnosi alla presa in carico fasi complicate ne ha parlato l'Inrca e noi su questo abbiamo un focus tra poco ci tornerò mentre per completare il quadro del Carlino confermo sì che arriverà una nuova nave con migranti ad Ancona ne dà notizia anche l'agenzia nazionale Lanza assegnato il porto di Ancona alla Geo Barents arriveranno ad Ancona 38 migranti ci vorranno due giorni di navigazione l'appuntamento è previsto per domani 38 di cui uno minore quindi verrà assegnato questo minore al sindaco perché questo prevede la legge ha colpito tanto una vicenda di cronaca allora dalla raffica di notizie in riepilogo mi concentro un attimo su questo tema lavora su un tombino investito addirittura c'ha scritto una famiglia che ha visto atterrare l'elisoccorso proprio a seguito di questo incidente l'infortunio si è verificato a Recanati da dove ci scrivevano questi amici un operaio portato in elieambulanza all'ospedale di Torrette infortunio sul lavoro in un cantiere stradale a Recanati l'allarme ieri pomeriggio in via del Donatore un operaio è stato trasferito all'ospedale di Torrette in elieambulanza stando ad una prima ricostruzione pare che l'operaio stesse lavorando all'interno di un tombino con la parte superiore del corpo sopra il livello di strada per caso in corso d'accertamento sarebbe stato investito da un'auto condotta da una donna non vi dico pure qui messaggi ma le donne al volante ragazzi siamo nel terzo millennio le statistiche dicono che le donne sono molto più brave al volante degli uomini quindi non facciamo di tutta un erbo un fascio per esempio quando c'è un parcheggio difficile da fare l'ho raccontato tante volte io dico alla mia dolce signora guarda scendo parcheggia tu ma ricordo anche un episodio un Laura Papi collega di ETV strada imbiancata di neve non si riusciva a guidare stavo guidando io dovevamo andare a fare un servizio mi sono fermato ho accostato e ho detto Laura guarda guida tu sapendo che lei è molto più brava di me quindi dire che è colpa di questa donna che ha travolto questo operaio insomma cerchiamo di non fare di tutta un'erba un fascio anche seppur in questo caso nell'altro incidente simbolo del giorno è coinvolta una signora di 80 anni 82 abbatte le vetrate della stazione autoimpazzita piomba sui binari incidente shock alla guida un'anziana colpita da malore all'ospedale anche una passeggera ferita per miracolo per miracolo non attraversava in quel momento i binari della stazione di Fabriano un treno altrimenti sarebbe stato davvero un disastro con pochi precedenti anche un po' di sport dai Ascoli tutto pronto per l'arrivo di Viali il mister oggi parlerà con il Cosenza e poi finalmente potrà liberarsi intanto crescono le chance che il gioiellino giovane resti al picchio a proposito di calcio mercato Melchiorri che passa dall'Ancona alla Recanatese Melchiorri che scalda tutti i tifosi l'arrivo del bomber ha dato ancora più entusiasmo per i neopromossi per i neopromossi dell'anno scorso che quest'anno addirittura hanno raggiunto i playoff Donadel firma fino al 2024 con l'Ancona confermato il tecnico si è chiusa così la trattativa legata al rinnovo dell'allenatore ora vi porto al tema della demenza per le famiglie in difficoltà poi tornerò su altre questioni come per esempio i funerali di Stato di Berlusconi c'è Carla che dice non sono d'accordo col funerale di Stato e soprattutto per le tv che hanno sospeso le trasmissioni rispetto sì ma siamo esagerati concordo con Conte altri personaggi politici comunque condoglianze alla famiglia il tema dei funerali di Stato effettivamente in diversi lo hanno sottolineato in maniera negativa c'è un'altra notizia tra l'altro di primo piano oggi sui giornali è morta Flavia Franzoni la moglie di Romano Prodi l'ex premier che parla di un dolore enorme morta mentre faceva tra l'altro un cammino francescano ora la questione della demenza e come l'IRCA la affronta disturbo neurocognitivo minore e maggiore si tratta della condizione neurologica che porta al declino delle funzioni cognitive di chi ne è affetto da molti conosciuta come demenza dati alla mano la casistica è rintracciata in forte aumento nel panorama nazionale aumenta la popolazione delle persone anziane la diagnosi sempre più precoce grazie ai progressi scientifici e oggi più specifica abbiamo voluto organizzare con la professoressa Luzzi della clinica neurologica e con il mio istituto con l'IRCA un convegno con relatori di rilevo nazionale e internazionale sulla puntualizzazione in pratica del disturbo cognitivo maggiore e dei quadri delle malattie Alzheimer e non Alzheimer ci sono delle novità anche per quanto riguarda l'aspetto diagnostico in alcune forme di patologie non Alzheimer come la patologia corpi di Levi che è una patologia neurodegenerativa relativamente limitata come numero di casi ma che è molto interessante dal punto di vista patogenetico le prime due fasi che i medici si trovano così ad affrontare sono la formulazione la comunicazione della diagnosi se ne è parlato al convegno diagnosi e presa in carico della demenza che vede la direzione scientifica del professore Giuseppe Pelliccioni e della professoressa Simona Luzzi questo è il tema sulla demenza se ne è parlato e l'IRCA su questo è un centro di ricerca istituto nazionale di ricerca e cura per gli anziani questo significa IRCA e siamo fortunati nelle marche ad averne la sede mi segnalano che è vero oggi 14 giugno tanti anni fa ma è l'anniversario della morte di Giacomo Leopardi in quel di Napoli il poeta favoloso che io ho qui a custodirmi a guardarmi le spalle vi dedicherò tra poco una Vittorio Gasman dannata anche lui purtroppo ci ha lasciati che legge l'infinito forse l'opera più importante più conosciuta di Giacomo Leopardi tra poco anche questo attenzione gentilissimi mi corre l'obbligo di segnalarvi la brutta esperienza che ha subito questa mattina mia mamma di 86 anni ci scrivono è stata derubata di tutti i suoi averi dalla famosa banda dell'oro in frigorifero metta il gioiello in frigo perché in realtà è una fregatura non so se ne siete a conoscenza purtroppo sì ma hanno operato in varie città d'Italia e ora sono arrivati anche nella nostra Ancona ci segnalano vorrei tramite voi mettere in guardia tutti i cittadini di Ancona perché si possano evitare altri episodi del genere per chiarire un po' il loro metodo usato vi invito a leggere alcuni articoli di varie testate giornalistiche ultimo il 3 giugno a Perugia grazie Paola Paola intanto un abbraccio sincero davvero profondo una amarezza immensa noi quasi quotidianamente trattiamo il tema delle truffe nei confronti degli anziani perché è una roba schifosa che si colpisca il cuore di una comunità perché gli anziani sono la nostra storia c'è una frase molto bella in Africa che dice quando muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca pensate che bella ha questa storia purtroppo chi si macchia di questi comportamenti vergognosi non manca di farsi segnalare in diverse città italiane sarebbero arrivati anche ad Ancona grazie Paola leggiamo e rileggeremo ancora questo tuo appello non aprite la porta di casa non fidatevi purtroppo è brutto dire così ma è necessario saluto chi ci sta seguendo sono le 8.53 io avevo pronto un riepilogo di altri temi a proposito di anziani ero nel pesarese scappa dall'ospizio e muore di freddo in due finiscono a processo sono i titolari dell'istituto dove era ospitato questo 93enne purtroppo era riuscito a scappare a proposito di Pesaro e del pesarese dal corriere al carlino ecco perché me ne vado è finita nel peggiore dei modi abbiamo detto Ascoli Viali Ancona Donadel Re Canatese Melchiorri si parla un po' di mercato nel basket VL Repesa a questo punto il divorzio è ufficiale qui era impossibile crescere ecco lo sfogo del coach in taglio alto la storia di questo buttafuori residente a Fano che avrebbe colpito 50 volte un presunto rivale in amore un ragazzo di 36 anni che aveva visto nella compagna del 28enne la bellezza si era un attimo soffermato a guardarla e con questo ha pagato con la vita così buttafuori Fanese ha massacrato dice il carlino il vigile del fuoco l'aveva accusato di aver infastidito la fidanzata da Mondavi una triste storia amici amici Rina muore nel giorno in cui tagliava proprio il traguardo dei 102 anni stava lì festeggiando con la sua grande famiglia proprio nel giorno del compleanno dei 102 anni la morte della signora oggi arriva la mille miglia ne abbiamo parlato tanto perché ci sono cambiamenti di viabilità per macerata per fermo per ascoli qui si parla di Pesaro arriva la mille miglia oggi la spettacolare sfilata saranno 420 le auto d'epoca tra le 8 e 30 e le 14 ecco dove ammirare il gran giorno arrivato oggi la mille miglia farà tappa in città con le sue pensate 420 auto cittadino avvisato mezzo salvato a proposito invece di viabilità di cittadino avvisato mezzo salvato ci segnalano in diversi code rallentamenti traffico bloccato nella zona della baraccola di Ancona se avete notizie più dettagliate oltre questa segnalazione fateci sapere 349 39 1869 viabilità a proposito di viabilità resto sul tema per darvi aggiornamenti rispetto al tratto autostradale marchigiano che ci compete in maniera preponderante dove segnaliamo la pioggia quello sì ma c'è anche un'altra segnalazione tra i caselli di Ancona Nord Ancona Sud traffico intenso coda in uscita Ancona Sud per traffico intenso quindi oltre alla baraccola addirittura la coda riguarda pure l'autostrada chi cerca di uscire dall'A14 marchigiano zona Ancona trova difficoltà evidentemente è successo qualche cosa io cerco in diretta di avere aggiornamenti eventualmente saremo prontissimi a darvene 349 39 18 169 a proposito di viabilità ma questa volta su treno bando per il raddoppio della orte falconara finalmente si farà e si farà con i fondi del PNRR una gara per l'aggiudicazione dell'otto tra Genga e Serra San Quirico opera attesissimissima cosa porterà come giovamento a quest'opera io vi ho proposto un articolo perché tutti i giornali regionali ne parlano eccolo qua riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona per alcuni servizi fino addirittura a 30 minuti e poi quindi migliore il viaggio verso Roma incremento della capacità anche economica perché si passerà da 4 a 10 treni sull'intera linea miglioramento delle concessioni di accessibilità e poi adeguamento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci 349-3918169 vi chiedono di salutare Cingoli perché Cingoli perché arriverò arriveremo con il Buonasera Marche Show a Cingoli allora do un grande saluto alla comunità laddove non è quasi mai notte arriva più tardi che mai a Cingoli saremo venerdì 16 giugno con tanto di bretelle presso Viale Valentini Piazzale Cipolloni alle 21 e 15 con il talk show itinerante che racconta i lati noti e meno noti dei personaggi del territorio la comunità di Cingoli ci ospiterà con il grande cuore tipico dei marchigiani appuntamento con il Buonasera Marche Show si parlerà anche e soprattutto di sport del territorio guardate questa foto la dice lunga sugli panorama sugli orizzonti e anche sulle potenzialità di questo territorio grazie appuntamento venerdì a Cingoli appuntamento con il Buonasera Marche Show ve l'avevo promesso adesso vi dedico questo momento mi permetto commovente perché il 14 giugno del 1837 moriva Giacomino Leopardi il poeta favoloso ecco allora una clip di Vittorio Gasman anche lui purtroppo scomparso che ci legge l'infinito sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir fra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva il suon di lei così fra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarme dolce in questo mare e il naufragarme dolce in questo mare con la voce inconfondibile di Vittorio Gasman davvero bellissimo questo omaggio che sui social network trovate mi devo fermare ma ho forse ancora un minutino di tempo per un paio di titoli che più di altri vi avevano colpito colpo grosso dei banditi dell'oro rosso fa rima ma non è voluto questo credo dall'azienda scompaiono 200.000 euro di rame ladri in azione alla cover metalli nella filiale di Monte Cassiano il bottino si aggira attorno ai 200.000 euro cifra monstra letteralmente ancora si schianta con il pulmino in A14 tra Rimini e Riccione poco fa mi avevano chiesto anche le condizioni di salute a giorni di distanza di questo ragazzo gravissimo ancora gravissimo questo 36enne di potenza picena mi fermo dedicandovi qualche webcam continuano ad arrivare le segnalazioni di caos traffico nella zona di Ancona Sud zona baraccola in particolare se avete anche voi segnalazioni notizie in tal senso fateci sapere mi devo fermare però sono le 9 e 2 minuti tanti messaggi state con noi a tra oh mamma mia il terremoto opere caritative francescane è un'associazione di volontariato accoglie persone in HIV da 20 anni e si occupa di prevenzione dell'AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili tutti possono sostenere l'associazione donando il 5 per 1000 e allora sai che c'è anch'io donerò il mio 5 per 1000 all'associazione anzi vuoi un consiglio fallo ancora a te dammi retta ma com'è spacciata ce l'ho dal 97 ed ero un usato garantito non è niente per risuscitarla a qualche fluido la macchina è da cambiare fai un salto da FIGEMPA dammi retta fai come me da qui ci arrivi a piedi non vivere i tuoi sogni come un incubo rivolgiti a FIGEMPA Parco Zoo Falconara 60.000 metri quadrati di natura svago e istruzione ricerca e conservazione delle specie animali percorsi didattici e lezioni dal vivo per le scuole aree picnic Parco Zoo Falconara animali di tutto il mondo per gente di tutte le specie via Castello di Barcaglione 10 Falconara Marittima cerchi il posto ideale a cui rivolgerti per compilare il tuo 730 nessun dubbio CAF Confartigianato tutte le sedi delle province di Ancone e Pesaro Urbino ti aspettano telefona per prenotare il tuo appuntamento cessioni crediti e bonus edilizi IMU ISEE successioni RED reddito di cittadinanza puoi consegnare i documenti anche online se sei un imprenditore associato con più di 15 dipendenti veniamo direttamente in azienda e se scegli per il tuo 5 per 1000 ANCOS sosterrai con noi progetti di solidarietà in favore della tua comunità approfitta inoltre per venire a conoscere le opportunità che ti offre il consorzio CEMPI luce e gas prezzi convenienti per tutta la famiglia consulenze preventivi gratuiti e non vincolanti contattaci all'822 9310 scopri tutte le nostre sedi nel sito www.confartigianatoimprese.net non perderti tra norme e tasse affidati al CAF di Confartigianato competenza sicurezza risparmio DST Tecnologie riparazione smartphone tablet e computer e vendita dispositivi ricondizionati con uno o due anni di garanzia DST Tecnologie partecipa alla piantumazione di alberi per compensare le emissioni di CO2 ci trovi ad Ancuna in via Maggini 51 DST dai nuova vita alla tua tecnologia DST Tecnologie DST Tecnologie di nuovo insieme cari marchigiani cari italiani è un po' più tranquillo questo oggi il maestro Tizzani perché non ha dormito il problema è quando dorme vero maestro? eh sì che oggi non ha dormito stanotte non ha dormito tra l'altro ho dato un'occhiata ai dati d'ascolto di lunedì nella tua fascia oraria c'è stato un botto clamoroso non so se l'hai notato no no tantissimi il programma è sempre seguito molto però in particolare lunedì forse per il post Inter City c'è stato questo espluà espluà no non ci ho fatto caso perché questi giorni sono giorni di programmazione nel senso stiamo già pensando alla prossima stagione televisiva quindi non ci sarà più Buongiorno TV dammi questa bella notizia ma questa è la vero dura ecco so ci provo ogni estate ci provo o poi se arrivano altre persone Maurizio lo so neanche io perché comunque come sai c'è una riconfigurazione aziendale molto importante quindi potrebbe esserci un nuovo conduttore una nuova conduttrice che ne so una conduttrice magari guardate che dormo dopo vent'anni mi va bene tutto intanto Inzaghi il piano scudetto Kea Lukaku Frattesi e Koulibaly ha speso parole sarebbe una bella campagna acquisti quella dell'Inter che ha già il parco macchine diciamo migliore non ti sembrano buoni acquisti ma Frattesi lo vuole la Roma lo vuole la Juve lo vuole tutti e quindi mi sa che si va a finire però ha parlato hai sentito la conferenza stampa con la nazionale io ho ricevuto un messaggio di un amico che mi ha detto ci mancava solo che terminasse l'intervento con Amala perché da quello che ha detto si capisce molto Inter il mio idole è Barella ma io so che oggi c'è l'incontro con il procuratore del Sassuolo e con il dirigente del Sassuolo con la Juventus quindi alla fine però ha detto mio idole Varella mi piacerebbe giocare in un centrocampo a tre però soprattutto ha detto la mia scelta dipenderà dal gioco propositivo e quindi la Juventus sarebbe esclusa l'Inter sarebbe la sua prima scelta ha detto che è un ottimo giocatore ma ha detto che non è tutto questo gran fenomeno è un ottimo giocatore ma i giocatori vanno dove vanno i soldi nel senso che se il frattese vuole andare all'Inter dice io firmo in bianco mi date un milione vendete il cartellino e vi faccio risparmiare ma non è così ha anche dichiarato che deve fare ancora praticamente un altro po' di esperienza prima di andare in campionato inglese o all'estero che ci vuole andare quindi praticamente neanche considera l'Inter una grande squadra è un passaggio e quindi io un calcio nel sedere io lo davo nel senso un giovane che dice ah devo fare il percorso sono partito dalla serie B perfetto mi sono fatto le osse poi sono andato chi non mi ama non mi merita quello da Juventino no no dicevo quando ho sentito le dichiarazioni che ha fatto io stavo zitto cioè già dimostrato molto sicuro di sé molto sicuro di sé per carità ha detto che deve fare un altro anno in Italia tutti due anni in Italia perché il percorso sa che andrà all'estero quindi già ti ha detto che lui è spurgo non è un punto d'arrivo nel senso in quella squadra non diventerà una bandiera allora sta gente qua a casa mia ma in generale Locatelli per esempio ha giurato amore eterno alla Juve però poi in campo poi se lo vendono se poi lo vendono buongiorno Maurizio buongiorno forse ci avviamo verso la normalità non se ne può più di questo tempo speriamo bene ciao da Angelo di Acqua Santa Terme bellissima questa immagine che ci dedica l'amico Angelo di Acqua Santa Terme siamo nel cuore delle Marche nell'Ascolano tu che hai un osservatorio più fresco rispetto a me piove si piove ho portato mio figlio all'asilo proprio in quel momento la pioggia quindi mi sono beccato l'acqua e dicono che nel pomeriggio un po' vada migliorando ma anche domani mi sembra che anche domani dovrebbe piovere speriamo nel weekend qua purtroppo l'estate guarda se quest'anno sento la parola siccità cioè vi giuro mi arrabbio perché non può essere con tutta st'acqua che sta accadendo la domanda è una dopo le alluvioni che ci abbiamo e via discorrendo sentire la parola siccità vuol dire che non la sappiamo neanche raccogliere quindi non c'è solo il problema di sprecarla ma tutta st'acqua che è caduta dove è andata a finire è andata veloce e delle vasche cioè io non la voglio neanche sentire questa parola ciao Maurizio è veramente vergognoso altri temi altri messaggi qui parliamo di Berlusconi in questo caso oggi pomeriggio i funerali sarà presente il sindaco di Ancona Daniele Silvetti perché non ci dimentichiamo sindaco di Forza Italia unico sindaco espresso da Forza Italia a livello nazionale per un capoluogo regionale è per questo che Berlusconi avrei sentito l'intervista che ci ha rilasciato ieri l'aveva chiamato l'aveva invitato a pranzo l'ultimo sindaco di Forza Italia con Silvio in sintesi aveva esattamente sì l'ultima gioia politica possiamo dire così che Berlusconi ha avuto nella sua vita è veramente vergognoso ci scrivono fare i funerali di Stata Berlusconi opinioni discordanti su questo si sono fatti per Sandro Pertini si vogliono paragonare questi due personaggi Pertini ha fatto la guerra è stato incarcerato picchiato dai fascisti padre costituente Berlusconi poi riferimenti al passato insomma le ombre con la mafia i processi condannato per evasione fiscale vergognoso rendergli gli stessi onori questo è il pensiero di Elisabetta come sempre qui a Buongiorno TV ci sono tutti i punti di vista c'è lo spazio per tutti cosa ne pensi maestro non esprimo ognuno c'è il suo giudizio posso condividere o non condividere per me va bene io dico solo una cosa che in questi giorni che ho lutto perché mi metto nei panni è meglio non parlare nel senso che non esprimo il suo giudizio perché bisogna prima la morte è un punto di fine per tutti e quando arriva la morte decade tutto almeno nei giorni del pianto poi dopo se è stato un grande stratega un grande personaggio o un cattivo personaggio lo dirà la storia ma in questi giorni comunque è un personaggio italiano per quanto riguarda lo sport è stato un pioniere e comunque ha distribuito tanto pil come dicevamo prima all'Italia quindi quanto pil va prodotto in questi anni da imprenditore da imprenditore quindi quel pil poi sarà stato ridistribuito sicuramente ovviamente lui è il capo ha preso più soldi di tutti sicuramente detto questo in questi due o tre giorni io eviterei poi dopo finito tutte le manifestazioni come sempre si può parlare criticare ma in questi momenti di dolore quando c'è il dolore e siccome non siamo uomini prima c'è l'uomo e poi dopo si può parlare almeno in questi due o tre giorni come rispetto ma in generale come si fa anche all'avversario quando tu fai una guerra con l'avversario finisce non c'è più l'avversario di cade la guerra c'è la bandiera si ammaina la bandiera si riconosce comunque l'onore delle armi l'onore delle armi almeno in tempo di guerra poi discuti successivamente le varie problematiche di quello che ha comportato se in bene o in male ma bisogna ammainare la bandiera in questo momento quindi poi non starà a me discutere perché non lo so io ti parlo da sportivo per quella la mia competenza da sportivo e per quanto riguarda le televisioni l'hai detto anche io l'hai invidiato il Berlusconi il presidente il presidente così ti fa sognare Ale ci segnalano purtroppo una situazione di degrado questa è la situazione in cui devono convivere gli abitanti zona piscina di Ponte Rosso nessuno da due anni interviene allora la piscina di Ponte Rosso la conosco anche perché da quelle parti ci sono dei campi sportivi di tennis dove ai tempi belli prima del ginocchio insomma ma sto piano piano tornando si sta rifacendo quella piscina e questo è quello che rimane della vecchia struttura che sarebbe a guardare queste immagini ancora ancora lì con un degrado questa è la piscina in Ponte Rosso una scorcizia pazzesca questo è quello che resta della vecchia piscina che è stata smantellata e adesso si sta costruendo quella nuova noi andremo mamma mia sono immagini brutte Ale andremo a verificare intanto grazie non ho motivo di dubitare sicuramente fanno bella raccolta differenziata insomma noi ci andavamo in quella piscina e quindi ci siamo andati anche una volta insieme credo sì sì quando eravamo giovani ma neanche tanto giovani sul finale e mi ricordo che ti ho detto Mauro guarda questo che è il riscaldamento hai una grande acquaticità migliore della mia lo ammetto candidamente va bene detto questo lo controlleremo comunque grazie per la segnalazione perché si tratta di una roba veramente ci sono immagini brutte non all'altezza di un guarda qua non all'altezza di un capoluogo se è vero come è vero che come ci scrivono che da due anni la roba è messa lì bisogna toglierla sono assolutamente d'accordo ti faccio l'esempio così per fare due risate l'Inter e la Juve Berlusconi e l'anti Berlusconi l'Inter e Juve per me l'Inter ha perso io non ho contribuito mi è dispiaciuto soprattutto perché meritava di vincere detto tra noi ha perso non sono andato a inferire minimamente perché comunque vengo da tante sconfitte e me ne sono dato zitto a differenza di altri soggetti che magari su le sfighe degli altri ci godono questa è la sintesi poi se tu mi fai un'analisi se l'Inter meritava la coppa la risposta è no perché il percorso che ha fatto il Manchester City ha espresso un grandissimo calcio per quanto riguarda la Champions da inizio alla fine e quindi per me chi gioca meglio ed è più propositivo merita di vincere poi sulla partita secca se tu analizza la partita secca meritava di vincere l'Inter fine poi queste sono analisi poi le discussioni vengono dopo ok così come Moratti non condivido appieno la linea di Moratti ma proprio tra parentesi lo scudetto degli onesti le situazioni della giustizia sportiva che adesso sta cambiando perché se sanno dopo che è successo ok io non sto a dire come tutti è buono in tutti c'è stato il precedente la Juventus ha pagato troppo rispetto cioè più che altro durante il periodo se sono accordi che era una cosa abbastanza semplice che queste cose qui devono essere fatte a fine campionato quando tutta la giustizia poi viene messa in campo quindi cosa va non era mai successa a nessuna squadra a livello mondiale una situazione mi prendo la batosta mi sto zitto e vi discorrendo c'è questa situazione bisogna un attimo e riconoscere gli avversari ma è più un caso Juve quindi pare che ci sia anche un colpo di spugna anche rispetto alle altre società che oggettivamente erano coinvolte altre società dove si stanno occupando di presunte plusvalenze gli accordi fatti dalla Juve con alcune società pare che ci sarà come è successo con Calciopoli un colpo di spugna quindi ha pagato la Juve è stato dato un esempio un messaggio a tutte le altre adesso punto a capo si riparte dovrebbe finire così e va bene c'è stato un errore è giusto è giusto per tutti che alla fine in tutti i gradi tu devi togliere i punti perché se non al campionato è falsato è cosa che dicono tutti non è una cosa molto questo l'hanno detto da Mourinho in giù esatto quindi praticamente attenzione per i tifosi del Milan caro maestro che sognano tifo Milan per Berlusconi la verità di Mbappé voglio vincere ma al Paris Saint Germain ci sono carenze tifo Milan andrà al Milan Mbappé? non credo proprio se mai andrà Mbappé al Manchester City al City dici? perché? ma sembrava promesso di Madrid ma perché va al City? c'hanno già Holland dai perché il Manchester no è il Manchester United scusa allo United si si perché perché il Califo quello che ha il Qatar sta comprando il Manchester United con 7 miliardi 7 miliardi ma l'Ivo non lo sa che c'è potrebbe anche eventualmente ma no allora la domanda la domanda c'è il Paris Saint Germain e il Manchester United cioè anche qui bisogna intervenire perché è uno Stato che gareggia con i presidenti o con aziende la vedo dura a vincere contro uno Stato giusto caro Maurizio è come se lo Stato italiano si prende una squadra di calcio ma lo Stato italiano c'è un sacco di buffi questi c'è un sacco di soldi e la differenza sta lì ok quindi praticamente è sempre lo stesso proprietario fa una mega plus valenza da una parte e una minus valenza dall'altra capito e pensa a quello che ha comprato il Manchester United a un miliardo lo vende a 8 o a 7 o a 6 miliardi hai detto niente patrimonio di Silvio è 6,3 per farti capire a proposito di Berlusconi ci segnalano il TG3 in diretta ad Arcore con una collega che si chiama Laura Troia ma con Lailunga insomma è una coincidenza ragazzi dai adesso insomma è un cognome c'erano i grandi troiani erano i grandi voglio dire quindi i nomi frattesi invece come la figlia di Spimpiglia tutti lo vogliono nessuno se lo piglia Maurizio Prof Tizzani questi non hanno una lira nessuno dice Giampiero sì allora la Juventus non c'è una lira l'Inter non c'è una lira la Roma non c'è una lira la Roma deve fare una plus valenza di 40 milioni il prossimo anno perché sennò è fuori ma come non si possono fare la plus valenza allora lo possono fare perché la plus valenza è solo se ti lo dici al telefono e dici guarda com'è che si chiama Belotti non vale più una mazza lo stiamo dando a 50 ed è una sola ma se te non lo dici al telefono hai risolto il problema e l'Inter è piena di buffi ma proprio piena 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 anzi addirittura di una nuova voce che è già stata venduta cioè stava aspettando la vendita poi è solo il tempo sarebbe circa un miliardo e due sì adesso l'ha alzata un miliardo e mezzo giustamente in finale di Champions vale un po' di più c'è un patrimonio il patrimonio è la squadra la squadra dei giocatori quello è il patrimonio della squadra quindi adesso i giocatori si sono alzati la Juventus ha la politica che deve fare i tagli perché praticamente con la non qualificazione alla Champions e con i soldi che ha perso e che sta perdendo anche perché comunque gli stessi sponsor ti danno meno se vai in conference e quindi deve un po' un attimo puntare su tanti giorni si parlava addirittura di uno scambio che mi faceva ridere però chiesa Conan il Barbaro non so se l'hai letto Conan il Barbaro si del Bayer quindi davano chiesa in cambio prendevano il Conan il Barbaro perché è quello che è molto più forte Coman forse che è già stato tra l'altro è a Juve ma è molto più forte Coman magari si però c'è la caridentità un po' più su con gli anni e c'è esperienza però giustamente se rimane Allegri l'altra tragedia per me è proprio questa la rimanenza di Allegri cioè che posso capire ma che non posso neanche capire ma non è tanto perché ci teniamo Allegri ma se tutti non lo vogliono il mio ragionamento è questo se tutti non lo vogliono nessuno c'è poca gente vuole Allegri ma io allora mi trovo la squadra che non fa la Champions mi trovo giocatori che vanno via tipo Vlavic uno fra tutti dice almeno c'è i giocatori Di Maria Paredes quelli sono già andati di fatto me tieni pure Allegri me sai di Cacchi devo sperare il prossimo anno io cioè almeno ci siamo ripresi Pirlo lanciamo Tudor queste cose qui capito una ventata d'aria fresca e poi mi faceva ridere i commenti di Allegri che lanciava i giovani sì Allegri lancia i giovani ma li lancia quando è proprio preso alla frutta più che altro li lancia fuori dalla finestra Mesto ti chiedo un commento anche per questo episodio che ha colpito tanto l'auto impazzita alla stazione di Fabriano abbiamo anche un'immagine interna proprio dai locali della stazione purtroppo la signora ferita vedete travolta e poi l'auto che finisce sui binari a guidarla una signora l'immagine è molto forte tra l'altro perché si vede proprio la persona investita dalla vettura a guidarla una 82N colpita da malore l'auto si è fermata incagliata praticamente guarda che roba si è incagliata praticamente sui binari e per fortuna che in quel momento non sopraggiungeva un treno io ti dico una cosa che per me è molto semplice da capire ma e non si capisce perché non c'è questa cosa qui è successa tra virgolette anche per altre cose sulle fermate degli autobus per me le fermate degli autobus e questi posti qua dove ci sono le persone davanti ci deve essere una praticamente diciamo barriera fatta da paletti grandi o da cemento in modo che evitano perché adesso pensa se lì dentro era pieno di gente ah si era un disastro per cosa quindi tu devi mettere tanti paletti davanti per proteggere perché può capitare che un attimo anche una macchina cambi il percorso così come le fermate degli autobus che te stai lì sulla fermo e ti arriva una macchina e ti travolge ecco perché ci sono quei belle piantane come si chiamano di cemento gialle oppure addirittura ci metti i vasi fai dei vasi pieni di fiori belli grandi e la vedo dura che quella signora con quella macchina neanche in camion li butta giù cioè sono dei ragionamenti tra l'altro ci sono stati anche episodi di terrorismo legati a questi gesti esatto quindi fai un ragionamento quanto costa una piantana di fiori grandi quelli che trovi poi anche bella da vedere se non ce l'hai ci metti quelle famose tonde gialle che può passare il pedone ed evita anche un'altra cosa che la gente come noi può parcheggiare davanti faccio un esempio perché adesso dico tutti gli altri davanti diciamo alla stazione sono cose molto semplici che non accadono mai però quando accadono di solito adesso non lo so può rischiare il morto e poi la tragedia perché passava in quel momento un disastro un disastro per 5.000 euro di piantane no no si è stato molto chiaro Giancarlo D'Ascoli condivido in pieno il fatto che il Manchester City abbia meritato di vincere la Champions non trovate assurdo che l'Inter sia arrivata in finale con circa 900 milioni di euro di debiti significa che nel sistema c'è qualcosa che non funziona ci dice Giancarlo D'Ascoli Piceno dei 900 milioni di euro di debiti ha parlato il giorno prima della finale il New York Times non in Italia niente e nessun giornale italiano ha riportato la notizia come al solito in questi casi figurati se fosse stata ma non fa vendere i giornali non fa vendere i giornali cioè il discorso che io faccio non è tanto Inter, Mila, Juve e Manchester City io faccio un discorso di coerenza allora se una plusvalenza giusto? ragionando è una cosa sleale quindi non è sportiva perché grazie a quello tu hai potuto comprare giocatori che non ti potevi permettere giusto Maurizio? se io compro le cose spendo 900 milioni e non pago è uguale essere sleali perché te addirittura è anche peggio perché prendi e non paghi e poi dopo ti fanno ah vabbè ti riduciamo o troviamo il sistema per equilibrare i pagamenti vedi Samp che la squadra si iscrive comunque al campionato non si sa chi è il presidente non si sa chi paga i buffi e poi lo spalmano allora l'altra cosa anche brutta è come il Manchester City la squadra che ha una nazione che compra i giocatori è sleale perché non puoi competere e come siete fai una gara del Formula 1 dove uno può spendere l'ira di Dio e fa la macchina le ore tutto quello che gli pare l'altro deve stare lì a misurare i 5 centesimi e come fai a vincere nel lungo periodo c'è slealtà di fatto di tutte e tre a proposito della famosa slealtà che invece ha visto la Juventus accusata buongiorno a tutti voi grazie mille per le informazioni a tutta la redazione di ETV Marche e poi come mai le 9.30 non vi collegate con Top Calcio 24 ci chiede Antonio ci colleghiamo con non sempre dipende poi dal palenzesto noi abbiamo una trasmissione che è Radio Bianconera visto che l'abbiamo presa perché quest'anno è l'anno di informazioni della Juventus incredibili tra cui adesso Seva Bianca Allegri uno scoop tremendo dopo Top Calcio c'è il pomeriggio dalle 3 in avanti fino alle 7 e abbiamo Milan Inter da mezzogiorno a luna quindi parliamo di tutte le tre principali squadre ciao ragazzi come al disco di Falconara vi ricordate ci fu un episodio simile di quest'auto impazzita è quello che volevo dire che purtroppo poi ce l'hanno messi le famose piantane come le vuoi chiamare te che anno fu non me lo ricordo guarda neanche tanto lontano mi sa qualche anno fa addirittura buongiorno Gabriele Di Ascoli per questi cittadini il lutto parlamentare non si fa intanto non è il lutto parlamentare sono funerali di stato quelli per Berlusconi il riferimento ai morti sul lavoro la strage che non si ferma 5 vittime secondo Gabriele meriterebbero anche coloro che perdono la vita purtroppo quotidianamente per incidenti sul lavoro meriterebbero funerali di stato a quello senza dubbio soprattutto quando ci sono delle tragedie importanti e sì purtroppo di lutti di stato qua ne possiamo fare tanti ma qui si apre una parentesi che non finiamo più perché c'è chi ha favore e c'è chi ha sfavore noi dobbiamo solo dire che vengono fatti poi dopo riguarda la signora che non è d'accordo con i funerali di Berlusconi siamo sempre di fronte a sinistrati di sinistra che avversano chi lavora e la proprietà privata vorrei ricordare che lei vive nelle Marche regione che cresce grazie al lavoro se a lei non piace l'Italia ci sono molte nazioni del mondo ci dice Giampiero che interviene sulla polemica funerali di stato o no ognuno ha la sua idea ma tanto anche se non li facevano di stato erano comunque di stato perché Berlusconi ci sarebbero comunque andati tutti ci sarebbero comunque i grandi personaggi per me non cambia niente potevano anche toglierli ma dato tra virgolette dico una cosa una bestemmia incredibile potrebbe arrivare anche dei presidenti importanti che adesso non sono previsti tipo visto che lui ha collaborato con l'America e ha collaborato con un'altra parte dici Putin impossibile no ma sarebbe una cosa Putin tra l'altro ha un ordine d'arresto internazionale appunto si fa arrestare e quindi addirittura diventa santo capitolo saremo in diretta l'abbraccio tra le cinque figlie alla messa nella villa grazie per la vita dolcissimo papà perché non ci dimentichiamo comunque che era anche un essere umano un papà e si piange si piange cioè si piange nel senso che dispiace per la famiglia perché è sempre un lutto siamo due persone abbiamo una fine poi analizziamo il percorso che ha fatto quella persona adesso è solo di cioè il lutto è fine io ho visto la foto si l'ho vista stamattina io non l'avevo vista ma un povero ti è riconoscibile e non sembra neanche lui la foto con mio figlio al bar di Milano 2 Silvio Provato ma scherzava con tutti Massimiliano Albanese proprietario del Maximilian Bistro racconta l'incontro di venerdì con l'ex premier e Marta Fascina ha chiesto dei ghiaccioli da mangiare si sentivo adesso sono curioso ma più che altro che lui piaceva il gelato al cioccolato non ne sappiamo qualcosa e quel collega Lucio Cristino quando andò andò a fare l'intervista a Berlusconi e appunto ci raccontò del famoso gelato che era buonissimo e gli aveva offerto no vai a prenderti il gelato che lo fa buono e c'è il famoso cagnolino di Silvio Berlusconi che stava lì seduto di fianco giusto? come si chiamava? Dudu Dudu non mi ricordo luto nazionale no ci schierano e poi senza Silvio tutto questo non sarebbe stato possibile io ho 43 anni la mia stessa età ma ve la immaginate un'infanzia a casa solo con la Rai e poi agli antisiglio farebbero bene a non festeggiare tanto visto che è passato a vita eterna quindi sono quali come una minaccia eccoli qua si ricordano i grandi successi di Mediaset Love Boat Starsky C-Chips Miami Vice Hazard e anche Magnum P.I. che era il mio preferito per distrattacco e poi ancora vedo Baywatch e le Charles Angels lo ho detti tutti allora il tuo preferito? poi ci dobbiamo cercare e qui l'imparazzo della scelta ma di questi qua ce ne sono anche altri io l'i-team mi piaceva l'i-team certo l'i-team nessuno di due ha detto Baywatch così quindi ma Baywatch perché comunque non è che ma no ma perché invece Hazard era fantastico buone Luke la macchina che zompava e poi i chipster come si chiama i chips i chips esatto poi ci hanno fatto anche sulla cosa dell'allarme noi a Falconara ti ricordi la sigla bellissimo poi ce ne sono tantissime ma io più che altro non è tanto questi io mi ricordo i cartoni animati perché io sono partito con bim bum bam o gli benji insomma vabbè ma bim bum bam con Paolo Bonolis che faceva praticamente che parlava con Juan esatto faceva altamente ridere perché io non vedevo l'ora aspettavo lì davanti quando arrivava l'ora Juan a un certo punto diceva sempre è qui che casca l'asino e Bonolis vedeva l'aiuto no me ne ricordo ce n'era la Marcuzzi che faceva pure programmi per bambini io te c'eravi degli orari che erano le 4 le 3 a mezzogiorno l'una quando ti mangiavi era tutto studiato detto questo quello che ti dico è che è molto semplice perché Berlusconi ha messo insieme tutti era una figura o ce l'avevi con lui o stavi con lui se ti dicevi qualcosa andava male in questo periodo che va dagli anni 90 ad oggi fino ad oggi perché poi è un po' colpa di Berlusconi giusto o era grazie a Berlusconi qui noi siamo nell'era un po' come la Juve o colpa della Juve poi dopo la storia lo vedrà però se ti vai a vedere era un simbolo anche per gli avversari se con qualcuno te la dovevi prendere se non te la potevi prendere è questa la verità perché l'Italia c'ha sempre bisogno di una figura e lui ha incarnato quella figura di benessere di rilancio che anche in Italia tutto era possibile da nulla si è costruito le leggende del pianista tutte le leggende che cantavano le famose leggende che con 30 milioni delle vecchie rire non so quanto è realizzato ad oggi indiciò il suo impero prima poi come l'abbia fatto io non lo so perché non ero lì nelle stanze dei bottoni però l'esempio è oh ho conto purtroppo maestro dobbiamo fermarci appuntamento per fortuna purtroppo per fortuna dobbiamo fermarci appuntamento a domani con buongiorno e adesso con chi ce la prendiamo c'è ragione pure tu con la Juve con la Juve ben trovati a questa nuova puntata di Adconsum Informa in studio con me Loredana Baldi di Adconsum Market ben trovata Loredana grazie ben trovati voi oggi parliamo diamo una buona notizia ai nostri telespettatori parliamo di bonus spesa per ovviamente la spesa alimentare istituito dalla legge di bilancio 2023 saranno tutti curiosissimi di che cosa stiamo parlando sì in effetti la legge di bilancio ha istituito un fondo per aiutare diciamo le famiglie meno abbienti nella spesa alimentare il fondo ha una dotazione di 500 milioni di euro ma mancavano i decreti diciamo necessari per definire i criteri per l'assegnazione del contributo ora il decreto è stato approvato e quindi possiamo dire che si tratta di un contributo di 382 euro e 50 che verrà erogato ad alcuni nuclei familiari